La proprietaria dell'area ha purtroppo giudiziariamente ragione, ovvero gli alberi sono alberi ad alto fusto, non sono stati piantati a una distanza corretta, cioè quella prevista dalla legge, dal confine dei due terreni, per cui la proprietaria giustamente dal suo punto di vista eccepisce che questi alberi devono essere non abbattuti, non tagliati, ma devono essere riportati a quanto prevede la legge. Cosa prevede la legge? Che l'albero deve essere regolarizzato e la sua altezza deve essere regolarizzata all'altezza del muro di cinta. Qual è il problema in questo caso? Che quando si andrà ad eseguire questa sentenza, la sentenza travalicherà l'intendimento del giudice, ovvero l'ufficiale giudiziario che farà regolarizzare l'altezza delle piante ne determinerà la morte, perché un albero di quel tipo tagliato ad un metro e mezzo, che poi è all'altezza attuale del muro, muore. C'è anche la perizia botanica su questo, insomma purtroppo, diciamo così, è un dato certo. Gli alberi non si possono spostare perché non sopravviverebbero all'operazione. Purtroppo opporre quel tipo di sentenza in realtà avrebbe costituito semplicemente una dilazione nel tempo e un costo aggiuntivo per i contribuenti, perché ricordo che quando amministriamo poi i soldi mica sono i nostri. Questo ormai è un fatto che è arrivato così a Cessereno. La città non era stata preparata per questa cosa, insomma è arrivato un fatto che noi non ci aspettavamo naturalmente. Questi alberi sono stati piantumati nel 1993 dai gruppi di ricerca ecologica, da Italia Nostra, Lega Ambiente, Fondo Siciliano per la Natura, allora nella consueta annualmente operazione che noi facciamo, che è la festa dell'albero, il 21 di novembre. Non ci aspettavamo tutto questo. Quello che può fare di più è il proprietario del terreno, che naturalmente, siccome io sono convinto che alla fine accorciare, potare degli alberi che poi non danno tanto fastidio, perché lì il terreno è previsto come parcheggio, quindi un po' di buonsenso, ecco questo è quello che chiederei. Grazie a tutti.